Ne vuole ancora? Metto, metto. Sono due e mezzo, lascio? Sì, lascio, lascio. 160. Il mese scorso era 130, si rende conto? 160, 130, cosa vuole che cambi? L'ipertensione arteriosa non va presa alla leggera. Alza la qualità della tua vita, controlla la pressione. La SIA è a tua disposizione per fornirti tutte le indicazioni in materia di prevenzione, diagnosi, cura.